Nel borgo di Sant'Alessandro con il dottor Franco Napoleone, quest'anno il borgo nel giorno di Sant'Alessandro decide di dedicare la sua attenzione ad un personaggio fondamentale per la storia dell'isola d'Ischia non solo dal punto di vista archeologico ma probabilmente anche identitario come il professor Giorgio Buchner. Esatto, perché noi siamo maggiormente onorati ed è un dovere ricordare Giorgio Buchner sia perché Giorgio Buchner, i suoi genitori, ci essere la collina di Sant'Alessandro come punto di riposo e di svago e anche perché Giorgio Buchner ci ha proiettato a livello internazionale con le sue ricerche. L'isola ha dato sempre ben poco, noi cerchiamo con questo modo di stimolare i vari comuni affinché veramente Giorgio Buchner possa essere ricordato in modo adeguato. Io direi il primo e l'unico che ha dedicato l'intera sua vita alla scoperta di Pitecusa folgorato da una serie di letture erudite e da molti sopralluoghi fatti a Montevico con il barone Otto de Fiore che era un amico di famiglia e lì veramente all'epoca dovunque camminando si trovavano cocci, frammenti di vasi e questo ha acceso la fantasia giovanile di Giorgio che ha deciso di non seguire le orme del padre Paul che era un insigne zoologo e di dedicarsi invece all'archeologia. Quindi è entrato in soprintendenza nel 52 finalmente, ha cominciato lo scavo della necropoli di San Montano e ne ha tirato fuori appunto l'intera storia di Ischia dalla preistoria fino all'età romana. Ed è bellissimo, non so lei cosa ne pensa, il fatto che il liceo classico, il nuovo liceo classico qui ad Ischia sia stato dedicato proprio a Giorgio Buchner. È stata una cosa bellissima, una cerimonia molto toccante, molto ben organizzata dalla preside nel corso della quale ho avuto l'occasione una volta di più di ricordare Giorgio e mi è sembrato soprattutto un atto doveroso diciamo.